ciao amici italiato games buongiorno comandato un ferragosto tutto ok spero proprio di sì noi ci stiamo avvicinando l'uscita del football 2023 anche se ancora non c'è una data ufficiale si parla di fine agosto io dovessi puntare sulla giorno io direi che il 25 agosto è il giorno più il giorno favorito per l'uscita di football 2023 staremo a vedere perché con konami fin quando le cose non accadono non bastano neppure le notizie ufficiali bisogna proprio che le cose accadino per essere certe quindi staremo a vedere comunque ci sono due novità due novità quindi qualche cosina anche in questi giorni ferragostani sta accadendo la prima arriva dal sito ufficiale football 2023 che ci dice che tutti gli obiettivi premium disponibili saranno interrotti entro il 18 agosto 2022 questi obiettivi premium non saranno più disponibili per l'acquisto in seguito i tuoi giocatori e le altre impostazioni verranno trasferite sui football 2023 tuttavia tieni presente che le affiliazioni di alcuni giocatori potrebbero cambiare rafforza la tua squadra con queste elettrizzanti aggiunte sviluppi sviluppo ulteriormente il tuo dream team per farla breve ragazzi questi pacchetti quelli delle squadre quelli di messi e di neymar dal dopo il 18 agosto ma per meglio dire fino a domani il 17 perché 18 agosto alle 4 del mattino ma è come se fosse domani non saranno più disponibili e quello che dice conami in questo momento è che dopo questa data questi pacchetti non verranno rilasciati magari ne verranno rilasciati altri come qualcuno mi chiedeva su un video uscire al pacchetto intero uscire al pacchetto milan e in teoria sì ragazzi non so dirvi quando però comunque questi pacchetti saranno disponibili insomma fino a domani fino al 17 tutto il 17 il 18 non consideratelo pacchetto premium ambassador messi pacchetto premio ambassador neymar junior pacchetto premio barcellona bayern monaco manchester united arsenal roma celtic monaco galatasaray manchester b che sapete il manchester b e il manchester city quindi se li volete acquistare ragazzi dovete farlo tra oggi e domani altrimenti non usciranno almeno per il momento perché qui ripeto leggo qui questi obiettivi premio non saranno più disponibili per l'acquisto in seguito insomma conami sta tentando la cartel dire o se non li comprate adesso non li comprate più vedete voi vedete voi non mi esprimo qualcuno mi ha criticato perché non ho comprato il pacchetto messi il pacchetto neymar in questo momento io devo migliorare io di gioco secondo me i giocatori che ho vanno più che bene sostanzialmente sapete voglio prendere cristiano ronaldo e come come riserva davvero di lusso ma per il resto in questo momento non ho grandi interessi poi voglio vedere cosa accadrà con i football 2023 se ci saranno nuovi overall eccetera eccetera quindi in questo momento io non mi interessa comprare questi pacchetti però magari voi invece avete con questo fatto che non saranno più disponibili vi viene la voglia di comprare messi il pacchetto messi il pacchetto neymar o il pacchetto di una squadra fate voi fate voi poi magari usciranno nuovi pacchetti delle nuove stagioni perché questi effettivamente sono della stagione 21 22 l'altra notizia e ringrazio vivamente il nostro davide de idda dado 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 admin del del gruppo di pes italia del gruppo telegram di pes italia insomma persona fondamentale nella community mi segnala questo che sono in arrivo due rinnovi del contratto a 60 giorni in regalo accedi semplicemente al gioco nel periodo di validità della campagna otterrai fino a due rinnovi al contratto 60 giorni la campagna in arrivo quindi preparati come potete vedere la campagna durerà dal 18 al 22 agosto quindi da giovedì giovedì venerdì sabato domenica lunedì mi pare sì fino al 22 e poi dal 22 al 25 quindi saranno due due rinnovi del contratto in regalo si spera ovviamente che non abbiano scadenza oppure si potremo dare al giocatore se hanno scadenza e comunque si allungano di 60 giorni i tempi per il momento tanti mi chiedete come saranno i rinnovi contratti solo con i punti di football ci sarà in modo di prendere noi contratti con con il gp o con le monete io ragazzi non lo so per il momento non lo so con ami non ci dice nulla problema comunque si porrà minimo minimo ad aprile 2023 quindi per il momento non non state a pensarci perché tanto se poi con ami non dice nulla né io né nessun altro può dire può dire nulla solo c'è solo un modo citofonare con ami ma tanto con ami non dà le informazioni di questo tipo quindi ragazzi in conclusione le due novità di oggi sono che i pacchetti delle squadre i pacchetti messi nei mar entro domani si possono acquistare poi mai più come dice con ami e che poi questo è molto più interessante secondo la mia opinione comunque il fatto che perché perché più interessante perché secondo me chi li voleva comprare i pacchetti da comprati e poi si è fermato ma vabbè può essere che magari qualcuno ha avuto la folgorazione sulla via di damasco li vuole comprare ora comunque queste questi due rinnovi del contratto a 60 giorni quindi in tutto 120 giorni diciamo un terzo se volete se c'è un giocatore che vi interessa parecchio che ha un contratto 365 giorni magari con questi fa vi fate altri 120 giorni se io in questo momento vestirla a qualcuno magari lo darei o a messi o a bappé sostanzialmente più ammessi onestamente perché non so se avete visto le partite del campionato mi sembra mi segna su punizione nove volte su dieci e poi davvero fa la differenza più di bappé per quanto mi riguarda ragazzi per il momento è tutto io vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento a questa sera con altri video del campionato e domani vediamo se ci sono altre novità sto cercando come sempre tutti i giorni di farvi il video del mattino a orari un po' differenti a secondo un attimo delle mie esigenze personali però tutti i giorni sto cercando di darvi tutte le novità tutti i giorni partite del campionato cercherò fino al 22 io sono un po' in giro di qua e di là dal 23 finite tutte le vacanze finiti tutti i miei giri e quindi si tornerà alla normalità e più video garantiti mattina e sera però per il momento sto riuscendo a farlo spero che apprezzerete l'impegno e sapete che se ancora non vi siete iscritti al canale è il momento giusto per farlo se poi volete supportare di più il canale potete abbonarvi potete mandare un'offerta potete fare i vostri acquisti su amazon adesso in questo video non inserisco neppure la descrizione del video perché non sono a casa non ho tutto a disposizione ma comunque comunque sapete come sempre come poter supportare italiato games il network il canale questo canale youtube io vi ringrazio per l'attenzione fatemi sapere cosa ne pensate di queste due novità buona giornata buon post ferragosto e a presto ciao